Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR Allora, sono tornata ieri dalle vacanze e oggi ho deciso di girare un video abbastanza rilassante anche per me ovvero un video show and tell di dei prodotti che mi sono stati super gentilissimamente un nuovo avverbio omaggiati da Banggood che è un sito che rivende tantissimi prodotti dal cosplay, bellezza, tecnologia, ecc e che appunto mi ha dato l'opportunità semplicemente di ricevere dei prodotti in omaggio troverete il link di tutte le cose nella descrizione con un codice sconto che non è affiliato quindi è semplicemente uno sconto per voi se volete acquistare qualcosa non ci guadagno niente però insomma se volete acquistare è utile io direi di iniziare allora, anzitutto io voglio far vedere i due prodotti insieme perché sono della stessa categoria direi sono questi due prodotti ci sono un sacco di cose interessanti devo dire in questo video, cioè a me non mi piacciono allora, sono dei famosi prodotti con il fiorellino all'interno uno è questo della Kylie Jumei Kylie Jumei è soato che è questo? è molto carina la confezione è un po' tridimensionale non credo si percepisca dal video e all'interno c'è questo prodotto qui che sarebbe un lucidalabbra che con col pH credo della pelle cambia colore ci sono diverse colorazioni a me hanno inviato la numero 02 l'unica cosa che non ho capito che all'interno della confezione oltre al gloss che è questo è molto carino guardate è bellissimo con questo fiorellino qui alla fine tutte queste particelle dorate mi hanno dato anche quest'altro che è un altro applicatore che credo servi quando il prodotto sta finendo perché è a una stina più lunga rispetto a quello qui dentro quindi per prendere il prodotto alla fine è a a a a a Grazie a tutti.